direi che questo gioco comincia così buongiorno amici io sono papi e lei samuele oggi giocheremo a a tom candy run però so che abbiamo otto anni però non mettiamo la vera perché se non l'ho capito quindi mettiamo 2018 sei ladro te la ricordi questo o si ladro si 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 guardate male questo vanno tutte le caramelle dai guarda pronto polizia no è tipo tommeno non fate questo gioco è come tommeno però non si svolge e prendere le caramelle vero però non è come sempre mi ricordo questo calamità veloci troppo grandi super diventato superman ora non piego se cose che fanno cadere c'erano dell'intorfero per sette mille sette è stato un buon punteggio però dai ah mi ricordo se facciano miglioramenti sono da caramella mi ho pigliato poca roba zuffo un po' ora siamo in città dove cavolo è andato? torta tortone corsiere preso guarda guarda nuovo record la mia caramita tolkien e tolkien pure superman ma ci vorrei che la mia caramita adesso non c'è nessuno non c'è nessuno super uno super giusto giusto non c'è nessuno non c'è nessuno benissimo oh yeah 16 16 ho giocato angela visto più tanti per me con il suo scudo angela trasforma gli ostacoli in caramelle wow cosa vuol dire che cosa vuol dire che cosa vuol dire quando si è angela davanti alla destra e non c'è nessuno non c'è nessuno ovviamente quando prende il super potere guarda guarda se perdiamo viene angela guarda abbiamo perso che cosa vuol dire quando viene colpito si quando viene colpito tono viene angela tipo tipo quando si quando sbloccheremo hank e perderemo con hank vennerà ginger ora prendiamo tutti i omini qui c'è un camion guarda non parlare come un addormentato no però mi sa che non c'è più tempo perchè guarda quante cara buona questa calamita a volte calamita di salvo proprio dai si annunci troforziere vediamo se vi blocchiamo hank abbiamo sblocchato il livello 2 di angela oh yes caramelle vento di amanti guarda scusa che cosa possiamo fare su miglioramento tutti li possiamo fare tu sei semplice si e sono caramelle bene ci stiamo guardando a livello 2 go bello we're through la palma che calamita adesso ci stiamo sblocchiamo ecco la velocità rompe tutto wow 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 controllano lo stai persino esatto esatto ma questo riuscire a ragione benissimo ci ce l'abbiamo cento diamanti Oh, ormai ostacoli in caramelle! Oh, cazzo! Stasera tutto in caramelle, tutto in caramelle, tutto in caramelle! No, in tutto in caramelle, tutto in caramelle! Oh! Abbiamo solo 100 diamanti a qualcosa, abbiamo solo 100 diamanti a qualcosa! Sono pochi, sì, perché l'ho spregati, per prendere più caramelle! Oh, caprono! Vediamo! Unicorno, caramelle e cinquanta diamanti! Non ricorderà questo, credo! Non c'ho quanti davanti che possiamo fare! Non possiamo fare nulla perché ora non c'è il danno davanti! Guarda! Ora dobbiamo sbloccare una nuova fabbrica! Vediamo! Non ora però! Non ora! Non ora però! Devo prendere ancora altre caramelle! Il bello è che le caramelle si trovano in un sacco! Cioè non è che sono come i soldi che a volte restano come uno spazio! Capito? Capito sì! Cioè.. Ah ti mette le caramelle a doppio! No, vabbè che finita questa cosa! Ehi! 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 sbaccando 2.957 caramelle wow il punteggio è molto alto caramelle non punteggio faccio immediatamente vabbè il daco si paga 3 euro io vorrò cogliere altre caramelle vediamo quello che riusciamo a raccogliere stai vedendo? stai vedendo? non è vero abbassati bravo abbassati sotto no forse forse quanto c'è dai c'è 31 diamanti? 31 diamanti non c'è per il tuo? sì 31 ottimo 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 qualche matto che se li compra guarda questo si sta quasi sbloccando vedi? tra un minuto tra un minuto tra un minuto avremo il suo forzi di un minuto avremo il suo forzer ma possiamo migliorare tutto qua tra un minuto tra un minuto avremo il suo forzer il bello di questo gioco è che al posto di Tommiro le case te le dà mentre corri non è che te le dà mentre torri non è che te le dà mentre torri non è che te le dà mentre torri andiamo a raccogliere i premi 6 10 7 13 3 149 diamanti yes vediamo anche quanto si paga vediamo io dico di farlo non posso guardare l'annuncio perché c'è modalità aerea benissimo ora la togliamo un attimo yes ok abbiamo tolto un'altra aerea abbiamo tolto un'altra aerea ok aspettiamo che finisce l'annuncio benissimo angelo tom completo mille caramelle a 150 diamanti già ora tra tre ore possiamo comprare possiamo comprare un forziere rare e un forziere comune quindi ce li compriamo adesso si compri dai com'è la carne abbiamo 301 ma non ce lo fa forze rare contiene carte come un proguro vai ecco io non posso comprare cosa sono figliamenti non ci sono figliamenti sono pochissimi adesso sono 113 io non ce la faccio ma con per me un'altra me si mi ho comprato le caramelle però tutta la fabbrica completata wow 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 vediamo ora cosa eccoci ragazzi andiamo direttamente al prossimo livello e vediamo un'altra cosa c'è bello che bello e vedo un'ombra lì dentro c'è qualcuno che sta rubando le nostre torte ovviamente chi sarà il ladro ma ti pare no ma hai detto ladro ti distruggeremo vuole saltare addosso ginger 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 ciao ginger ginger cosa può fare ginger sfreccia sullo schetto e distrugge gli ostacoli quindi cammina sullo schetto ok ok vediamo cosa può fare ginger sfreccia sullo schetto e distrugge gli ostacoli e distrugge gli ostacoli e distrugge gli ostacoli e distrugge gli ostacoli ma questo è un po' difficile che è vediamo come cammina sullo schetto ginger non posso più vedere il mio come cammina e distrugger Allora abbiamo messo Angelo così quando perde Angelo possiamo vedere Ginger cosa fa. Perfetto. Abbiamo fatto l'ipra che devo selezionare per forza Ginger. E se no non ce lo fanno. C'è tutto. Abbiamo selezionato Ginger perché l'altro non si può fare, quindi... Ma vai. Guarda! Wow, ho visto questo giocatore. Ho visto Ginger. Hai scritto la mia posta che ho visto? Eh sì, voglio vedere come. Grazie. Sono più tutto. Ma poi stiamo vedendo un sacco di cose. Infatti sono troppe caramelle. Sto spaccando con Ginger. 2800 di casette caramelle. L'abbiamo fatto. Tom, Angelo, Sciric, Diamantini. Yes. Però questo besta ce la facciamo, giusto? A parte anche il negozio. Che vuol dire il negozio? Selezionato. Bene, può diventare Hulk. Oddio. Allora si sblocca. Sì, ce l'ha fatto vedere. E' una fabbrica di Tom. E' una fabbrica di Ginger. E' una fabbrica di Ben. E' una fabbrica di Angela così. E' un'altra fabbrica fedeita. Credo che ci sia pure anche in tutto questo, ma non so dov'è. Ma forse è più avanti. Blocchiamo solo questa fabbrica. Ecco ora che fai fare miglioramenti con diamanti. Perché mi voglio un sacco di caramelle. Wow! 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 E' un sacco di caramelle. Oh, la fabbrica di diamanti. Forse riprescono nuovi personaggi. E' un giusto e di beccarlo sempre. Ecco perché prima dicevo selezionavamo Angela per primo. Così poteva vedere Ginger con eri miglioramenti. Le Angela è molto buona perché trasformano le cose e gli oggetti. Ci trasformano gli oggetti in caramella. Oh, che si spavano voi faccio. Quattro video, abbiamo visto che hai trovato i consumatori per vedere il miglioramento. Come si chiama? Quattro. 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 Per vedere che il miglioramento riusciamo a fare. 120 non ce l'abbiamo, si spagna papi, se 180 non ce l'abbiamo, eh no adesso no, ecco a te non lo possiamo, quindi questo video si conclude qui, nel prossimo vi mostriremo ulteriori miglioramenti, ti raccomando se vi è piaciuto iscrivetevi al canale sempre 096 e metteteci un bel like, ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti ciao